Musica Ok ragazzi, ben a tutti e scusate non dove sono vestito così ma c'è caldo fuori no, non è vero, non c'è molto caldo comunque, se vedo un riflesso azzurro è perché c'ho lo schermo del computer che si sta accendendo perché devo fare un aggiornamento, quindi più o meno, sto aspettando che si accenda accenda ok, faccio questo video per dirvi che questa settimana a parte questo vlog che dovrebbe essere caricato il giorno stesso, se la wifi ce l'ho altrimenti lo caricherò quando posso insomma, faccio questo vlog per dirvi che ho dei piccoli problemi di rete, perciò i video della settimana saranno diciamo, catalogati in modo un po' differente, infatti ho già registrato la Pixelmon ma non so dirvi quando potrà uscire e le Skywars li registrerò tre o quattro giorni dopo che sarà stata caricata la Pixelmon quindi questa settimana qua non aspettatevi i video che ne so dovevate aspettarvi un video ieri merito un applauso ok dovevate aspettarvi un video ieri però non l'avete avuto infatti quello della Pixelmon che non ha avuto la wifi l'ho registrata con la skin perchè ho trovato una wifi da vicino gratis per quel tempo proprio che mi bastava per fare il video quindi finché non avrò sistemato questo problema di wifi io non riuscirò più a caricare il video ma tranquilli che sarà per un breve periodo ok speriamo che Gesù non mi fulmini per questa roba però Gesù non so che sarà una brava persona ok e altro da dire beh siamo a 73 iscritti bella sono molto contento che sia arrivato da questo traguardo qua e anche se sarebbe per arrivare a 100 comunque a part per gli scorsi 100 iscritti appena arriverò a 100 iscritti che penso che sarà tra 8 mesi no dai speriamo prima possibile quando arriverò a 100 iscritti farò uno speciale uno speciale di cosa non ne ho idea vabbè che c'errò tempo per pensarci però non ne ho idea ve lo dirò in un vlog successivo una altra cosa da dirvi che vi vorrei dire ma non credo che lo far cioè lo potrei lo faccio però non so quanto ok dato che visto ok dato che molti youtuber hanno paura del copyright di certe cose quindi che youtube cancelli il canale per qualche motivo io per sicurezza adesso creerò un secondo canale il canale sarà in descrizione qua sotto quindi dovete cliccare il link blu e fare iscrivini ok e spero che funzioni perché se no vabbè basta andare a cercare su youtube e sarà caricato cioè lo farò quando avrò la rete si intende comunque se io lo farò e che dire di altro basta farò questo secondo canale quindi ragazzi anche se non carico video passateci iscrivetevi soprattutto perché in caso lo userò come canale vlog se no finché allora facciamo così il canale principale dove caricherò quest'ultimo vlog per questo canale qua sarà il canale game loader 9.89 l'altro si chiara si chiara si chiamerà game 2 penso comunque se il link sta nella descrizione quindi non ok e caricherò per tutti i vlog in caso che mi dovessero cancellare il primo canale caricherò anche i video del secondo canale quindi ragazzi passateci per forza di là mettete un like per sapere soprattutto perché nei vlog io dirò tutte le cose che magari per non riempire di video il mio primo canale cioè metterò tantissimi video anche di là di vlog per aggiornarvi sul tutto quindi detto questo ragazzi vi ricordate iscrivetevi a questo canale e a quei miei iscritti e ai nuovi iscritti di passare al secondo canale che lascerò in descrizione commentate questo video e mettete mi piace alla prossima ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti